Matteo Busato è il leader di questo giro bio e effettivamente è stato uno dei corritori più attivi nelle fuga, nelle prime tre tappe. Da oggi iniziano le salite un po' più impegnative. Cosa ti aspetti? Mi aspetto sicuramente tanta fatica. Oggi è una delle tappe più impegnative del giro, cominciano le salite vere e già sicuramente si faranno sentire le fatiche dei giorni scorsi. Oggi spero di mantenere la maglia e se ce la farò bene, se no va bene lo stesso. Finora è stato un bel giro. Comunque c'hai un bonus di due minuti su tanti potenziali favoriti. Può bastare per ottenere un posto anche sul podio? Diciamo che due minuti non sono pochi. Due minuti è un bel vantaggio, però gli avversari sono veramente forti. Io in salita non è che sono un fenomeno. Diciamo che mi difendo e cercherò di dare il massimo sicuramente. E dopo, strada facendo, si vedrà la classifica. Intanto teniamo giro oggi e poi da domani si vedrà. Va bene, grazie mille. In bocca al lupo. Crempi il lupo, grazie.